Padre e veramente santo, fonte e minori di santità, santifica questi giorni con il Signore del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il salve di Gesù Cristo nostro Signore. E io prendo sicuramente la sua passione, prese il pane e il mio segnato, non spezzano ieri e sono riusciti con ieri, prete, rimangiamo Gesù. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.